attraversiamo il muraglione della diga ragazzi devo stare attento a non volare giù dal muraglione della diga qua si un po' stretta come mai un po' stretta qua panorama panorama io devo ruotare piano 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 perché non è che ci passo proprio largo guardate un po' c'è di sotto che panorama ma c'è stretto curva qua siamo quasi arrivati oh sì 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 siamo quasi arrivati curva in questo punto sì 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 sono e salvi speriamo i ultimi metri grazie 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 m Siamo arrivati. Eccoci qua, nel piazzale, coraglioni, coraglioni. Ciao, ciao, mommy.